eccola qua si avvicina alla buanna e già subito eccolo qua tali alla no niente è una cosa che non si ci crede sa me cugnata veramente cosa di scriverci non c'è bisogno della maschera che già ce l'hai la maschera ma niente tua sorella tua sorella ho capisci sempre nel gruppo le spalettiere ho capito non aveva niente che fare non ha da pulire casa non ha da fare niente buonasera a tutti gli amici del tubo buonasera eccomi qua con questa bellissima premiere ok come state state bene avete cucinato avete fatto il quanto un quanto si dì a fare piatta quanto secca fare piatta è unica cosa noi mangiamo e ci giriamo nel lavandino per vedere come si riempie piano piano capito e man mano che io a loro ci ho insegnato che devono mettere le cose nel lavandino di più li mettono di più io cupane mucca mi giro e dico poi viene poi me fare i piatta e signori miei va bene chi mangia fanno lì che cumancia fanno mezza puro di che l'imbondizia aumenta la carta questo quello che su cucinone intanto questa è la vita che decidiamo noi e che ben venga tutti quei mariti che danno una mano alla moglie è bello vedere tutte le coppiette di ora e ce ne sono tantissimi anche di vecchio stampo dove mettono la tovaglietta dove mettono il piatto dove mettono le posate dove mettono tutto chi dove vuole solo chi dove fa solo cavuca raccossè mi ha detto e basta sa per fare solo raccossè ha capito e che si deve fare signori miei purtroppo allora io saluto tutti quelli che stanno scrivendo tutti voi che state scrivendo che state commentando che non vi posso vedere ma nella premiere vi vedo e vi mando un bacio veramente affettuoso a tutti voi sono stanca perché oggi ho passato tutto lo straccio nella casa capito lo è da moccio moccio capito un queppi moccio che a volte è meglio di un colpo di scopa hai capito quindi perché con la scopa io certe volte capito quindi io tiro col che cipino scopa con chi scopo a testa l'ave sempre o cascio a testa l'ave sto parlando di spazzare di scopare capito di scopare a terra spazzare no a scopa sempre già la ea testa però dico signore i miei mi pare pure piatto social risso su cosa antica ma lascia perdere guardati la televisione guardate che meglio poi lui si guarda la televisione dove ci sono tutte queste ballerine con le cosce di fuori attrici bellissime scollate capi si guarda film interi senza che ne capisce niente picchio poi ci dico che trama bu ma chi dice che fice bu guarda solo le belle attrici si immagina lei a così le guardano la televisione si mette così e guarda capito no è veramente una cosa poi a lui piace l'attrice come piace a noi tutti quella biazza che fa i programmi delle suore e tutte queste cose i tele novelli delle suore che a me mi piace a me mi piacciono queste cose delle sorelle a me piacciono tantissimo perché c'è sempre curiosità sempre cose belle capito ve l'ho detto che nel pullman ho capitato due sorelle una si è addormentata e la usa mangiò tutta notte mangiò tutta notte cioè io ripeto io non avevo un pezzo di pane vuoto picchieri se non mangio nel pullman e chissà ne scio pezzi di pane e tante caffrettata poi anche la frutta due frutte due frutte se frutte una mela e poi non so l'altro che cos'era era forse un kiwi sapi cucù cucù te giù su se mi se la valigia tutto buono e benedetto tutto buono e benedetto io per esempio che avesse mangiato con una accanto avesse detto vuole assaggiare sto mangiando la frutta lavora un po' perché usciavo rumare vava lo capisce usciavo rumare vava poi perfino a bottiglietta una bottiglietta quella con il tappo caffè a così che dà un saccio che cos'era si due ragazzosa si due ravino si due da caffè non so proprio quello che cos'era anche il dolce ci aveva mamma mia io pensavo naturalmente che ci mette n'esce questa cosa adesso ora esce una bella zuppa di ceci a mia mi piace la zuppa di ceci io la faccio veramente e viene troppo bella la zuppa a chi non piacciono le zuppe a tutti piacciono le zuppe allora io volevo ringraziare oggi marinella giuca ciao marinella che devo dirti dimmi tu che devo dire allora stasera mangio una cosa che mi hai mandato uca e tunica mi mannais il pacco che mi hai mandato ma neanche quelli del pacco saferavano ad alzarlo di quello che c'era di dentro certamente non posso elencare tutto quello che mi hai mandato ma ti faccio vedere una cosa cucinata che mi hai mandato tu e maio le mangiare di chi se ne mannesse di chi se i milenciane tante me ne mannesse un mare stasera li ho fatti così arrostiti con aiutza aglio capito aglio aceto eccolo qua e olio vedi il nostro già ci abbagniamo il panozzo poi vedi questi già li ho fatti va bene e quindi tutto qua poi sapendo che io naturalmente maio mi mangio perché già uno l'ho mangiato sembrano senza zucchero pomodoro aranci che bell'aranci che mi manno e poi me la grano caparono boom no allora non posso non ci riesco ad elencare tonno e miele e non posso cucuzze zucchine non posso elencare tutto quello che mi mandato o benedio si dice qua questi pure guardate che sono belli mamma mia guardate ma sono meravigliosi guardate noi vera ma che cosa sono una cosa squisita ora voglio leggere che cosa sono perché sono curiosa allora saluti e allora ecco dal barocco e che cosa sono non lo so sapori sapori sono sapori buoni questi di qua mamma mia che bellezza eccolo qua e vediamo hanno tipo sapori di buccellatini ma questo tutto con la cannella no è un proprio una cosa spettacolare e poi il vino zibibbo vino zibibbo da bottiglia mamma mia quando avete due zibibbo e tastavo ma che cos'era la fine del allora io non posso elencare neanche li potevo riprendere tutte cose messe nel cartone tutte cose messe i melograni un minuto cavabiglio coche melograni e poi faccio vedere ecco qua vediamo un poco che ci sono queste sono bombe guardate qua due 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 confezioni di queste che si fanno bene guardate che sono belle tagliate lo vedete zucchine verdi pomodoro di quello per insalata di quello ma veramente di lusso di lusso i cacuocci le domestiche le domestiche le carciofi mi hai mandato niente che dire che di un mese un mese un tuppoli un tuo fruttivendolo poi qualcosa di tonno così tanto marinella grazie veramente di cuore grazie ma ducatone chi l'ha fatto chi l'ha fatto non poterlo salire non poterlo salire capito ci aveva detto a chiedo che fa mi dai una mano per salirlo e ma però a mano c'è se vattene camacchiano io momise piano piano primo piano prima scala seconda scala adesso arrivò rincia arrivò quindi un che uno dice arrivato tutte cose sono arrivati tutto tutto poi un pesto particolare un pesto meraviglioso no niente io mamma non mi ricordo già su tutte cose impostate limoni di quelli ma veramente particolari belli grazie 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 veramente ok un minuto che vedere eccolo qua aspetta dove qua forse no è qua aspetta che c'è un messaggio che così lo leggo ecco qua bisogna pure leggere ecco qua vediamo eccolo qua va bene ok allora e che devo dire signore lì se ne parlo con il pubblico picchi lei poi per favore non ringraziarmi per favore di qua per favore di là lei è contraria capito ma a me mi viene dal cuore come ti viene dal cuore a te che mi ha mandato tutte queste cose per non parlare delle fiorentine che mi mandasse a cane che già la io già bella è messa già impostata quando pieno non c'è me ne fottere io a una a una me le fottere io 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 qua c'è un proverbio che dice la gallina che cammina sa che coglie con la bozzacchina cioè cucchisto va bene cucchisto lui fuori va mangiando non è che me li porta a me qualche sera che c'è frettata io a edo ci faccio la frettata so l'orario io prima mi mangio a fiorentina edo ci faccio la frettata e così si leva il vizio perché lui mangia fuori ma mai mi porta una cosa non mi ha portato mai niente e questa è una cosa sbagliata va bene questa è veramente una cosa che non va bene ok perfetto ora parliamo di un'altra cosa ok aspetta cassa ressa e secco guarda è bellissima e fresca qui ancora persiste il caldo fra qualche giorno mi vedrete con quella sciallina rosa che da bella perché ca un figlio s'attaccata all'ossa capito nelle ossa perché io quando non è che c'ho cammini cammini non ne ho io io c'ho casamo fiemme non camminiamo capito mentre fuori hanno i cammini e bio du fumo che ne esce capito i picciampannati e io signorino caccia all'ina raccossa e chiusa che taleo ha capito come finio ca capito ecco chi ha e chi non ha accontentiamoci del piccolo delle cose che ci abbiamo io c'ho una stufa capo di dire ma la so chi dica la lampa sa ricorda chi dica la lampa perché quella erogena si è rotta e mi accoppiata quella che faceva luce c'avevo una stufa erogena fici un buato e finisce se ormai non vale la pena il cammino quanto valgono le cose vecchie le cose vecchie io c'ho anche una macchina da cucire della sangia che questa era di mia suocera quando fu ma pigliavo io capito perché quando arrivo la notizia che è di amore io la prima che cibo fuvo io capito perché io già lo sapevo che le mie cognate se avevano fatto piazza pulita le tutte cose quindi la prima fumo io come marito che mio marito ci aveva le chiavi quindi nel mentre che a me cognata fa dice vado a prendere una cosa a casa mi girava e c'era super sirigno sa di queste macchine c'è seppino carica chi sa prima a casa poi carica e l'ho portata qua come questa stufa queste cose qua e quando venne lo cercavano la macchina sangia ma c'era 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 c'è ma se tu se tu c'era era tutta mangiata risucci ci disse salevo salevo la mamma perché mamma salevo la mamma c'era si è levato se l'è levato la io io rincia che l'ho dovuta dipingere tutta ci ho dovuto staccare la marca sangia se no quando i divenevano se ne addonavano l'ho tutta tapezzata e di manco se ne addonano ci avevo anche la televisione di so ma macchina ma macchina che vuoi dire se tutta tata 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 che da cupidale che da cupidale cassa tatatata taccato tu vado assunta signore mie perché la io sono non ristapuitata assurdo ce l'ho ce l'ho questa ce l'ho le cose vecchie erano tutta un'altra cosa va bene le cose fatte di una volta erano tutta un'altra cosa vero è purtroppo io c'ho pure un frigorifero lì c'è un frigorifero sapendo che mai c'era un frigorifero che da qua lo facciamo volare rubaicone che mai c'era ce l'avevo quello era io facevo la piastrellista tutte le mattine qualcosa per lavare un ghiaccio pop 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 si inchieva il ghiaccio neanche potete prendere ora ci sono queste frofrost e se frofrost nuovi capito se frigorifero frofrost che dice con fanno ghiaccio signore mie io per un periodo c'è la ghiaciera la ghiaciera quella là del mare hai capito e signore mie c'è chi ha c'è chi non ha accontentiamoci di quello che ci abbiamo ed è una cosa bellissima aspetta un minuto vedremo che scrivono i spagliettiere perché c'è veramente da vediamo che scrivono che cosa vediamo ecco qua ci sto scrivendo itele a chiore ecco qua ci pensavo io ci pensavo io ok allora saluto un forte bacio a mamma pina mamma maria dall'america mamma paola tutti voi che non voglio fare disparità ma siete tantissimi ma dico la famiglia stretta che sicuramente vi state salutando vi state ma questo momento anche se sono cinque minuti so che i miei racconti dei miei chiacchiere vi piacciono e io è per questo che voglio essere presente ormai tutte le sere ok a dire chi sento suono che scrive ecco qua ecco perfetto perfetto allora appena scrivere un nuovo video io io questa volta ci chiamo sai è a ballio a ballio no no la voce la voce l'altra è la ciccaia te lo dico pulito la ciccaia quelle quelle delle cicche per terra la ciccaia quella che butta le cicche a terra e poi le raccoglie se tua sorella quella sì sì scrive scrive mi manda messaggi per chi si avvicinano le feste e chissà se volesse impeccare con me e vabbè non fa niente signori miei non fa niente vi mando un bacio affettuoso veramente grazie sempre di cuore a chi sostiene titina grazie sempre io mando sempre questo qua ogni tanto lo mando grazie di cuore a chi sostiene questi programmi che faccio questa compagnia che tengo e questa e questa volontà che mi date sempre di andare avanti sempre fatto sempre fatti con il cuore va bene sempre sempre con il cuore come come che dice mamma paola bastasse un euro dice non è che ci vuole chissà quanto ma signori miei va bene ogni minimo gesto è sempre fatto col cuore vale tantissimo vi saluto una buona serata vi saluto una buona serata vi raccomando una buona notte speriamo che fate veramente dei sogni bellissimi io ora mi ha fatto un po' puristico se ok marinella se eventualmente sapete che mi ricoverano marinella e certamente mi hanno chiesto va bene io non io non posso resistere con queste cose meravigliose ma che ma poi quanto c'è ne una rucce quattro tantissime tantissime grazie 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 ora madre crea un po' chiesto loro no non ne beccano là dentro quindi quando chi da cacciare o zitto cacciare gli antobati i dolci non ci mancano quando si va a mangiare un cannuolo che fa me ne porta uno a me no e non ne avrà mio marito quando esce e si mangia qua le pasticcerie pensa che c'è una moglie dentro è buona solo per cucinare non porta mai niente quindi loro non avranno niente un bacio arrivederci